Benvenuti nel meraviglioso mondo dei semi di Chia, quei piccoli puntini neri che sembrano aver venduto l'anima qualche dio a zdeco per essere oggi i protagonisti del mondo culinario salutista. No, non devi lasciarti ingannare dalle dimensioni, da quell'apparenza insignificante, perché sono in realtà minuscole perle di saggezza dell'universo alimentare, la dimostrazione che le dimensioni non contano. Come un'antica reliquia, i semi di Chia hanno attraversato i secoli per irrompere direttamente nel mondo moderno, passando, senza soluzione di continuità, dalla storia delle civiltà precolombiane fino alle ultime tendenze gastronomiche. E quali mai saranno i superpoteri di questo superfood che si dimostra cosi... No, ferma tutto, ormai lo sappiamo che i superfood non esistono, eppure la Chia, qualche asso nella manica da giocare, ce l'ha davvero. Ma basterà? La Chia, nome botanico salvia ispanica, è una pianta nativa del Centro America, più precisamente Guatemala e Messico. Wikipedia scrive che i suoi semi, ricchi di Omega 3, sono paragonabili dal punto di vista nutrizionale a quelli del lino e del sesamo. Ma sarà proprio così? È considerata uno pseudo cereale, come la quinoa, come il grano saraceno, tanto per intenderci. Ma in realtà dal punto di vista nutrizionale si distingue in modo piuttosto peculiare da questi. D'altra parte è un seme oleoso e in 100 grammi puoi trovarci, quasi 500 Kcal, quindi un apporto calorico importante, ma come vedremo l'uso che ne devi fare non è certo in sostituzione di pane o pasta. Più di 30 grammi di grassi, ma che grassi, più di 16 grammi di proteine, di buona qualità, circa 40 grammi di carboidrati ma tutti complessi e niente zuccheri, ben 34 grammi di fibra e un interessante contenuto di vitamina B1, B3, calcio, magnesio, ferro, manganese, fosforo, selenio e zinco, oltre ovviamente a un'integrante spruzzatina di antiossidanti in forma di composti fenolici. Dicevamo che non devono sostituire la pasta, anche se in realtà in passato per alcuni popoli la chia è stata un vero e proprio staple food, un alimento base della dieta al pari del mais, e quando parlo di passato, intendo passato passato, pensa che è nota da più di 5.000 anni. Il principale asso della manica di cui ti parlavo in apertura è ovviamente, sicuramente il profilo dei grassi contenuti sono un'eccellente fonte di Omega 3, ma per assorbirli è necessario macinarli o lasciarli in ammollo 10-15-20 minuti. E non solo, il rapporto Omega 6-Omega 3 è estremamente favorevole, circa 0.3, aiutandoti quindi a riequilibrare uno dei tanti talloni d'Achille della tua dieta occidentale. Il dottor Greger ci ricorda tuttavia che i semi di lino, che richiedono tuttavia necessariamente macinazione prima del consumo, offrono in aggiunta un interessante apporto di lignani, sostanze che sembrano poter esercitare un certo effetto di protezione dai tumori, e aggiungo io un rapporto Omega 6-Omega 3 ancora un po' più favorevole. Ma al di là di questo, quali sono le proprietà e i benefici DIMOSTRATI della Chia? Ecco, qui casca l'asino, le evidenze attuali sono poche e poco chiare, una revisione sistematica datata 2015, ha tuttavia dimostrato che… niente, non ha dimostrato nulla, apparentemente il consumo di semi di Chia, in termini di fattori di rischio cardiovascolare negli esseri umani, è ininfluente o quasi. Questo significa che è inutile? No, assolutamente no. Significa però che dobbiamo smettere di pensare ai cibi esotici come pillole miracolose. Il suo contenuto in fibre, in proteine e l'eccellente apporto di Omega 3 sono da soli sufficienti a giustificarne un consumo anche regolare, se la cosa dovesse piacerti, e alla fine del video ti darò qualche spunto di partenza, ma probabilmente non si tratta di un qualcosa di indispensabile, come il marketing invece vorrebbe talvolta farci credere, soprattutto se ti garantisci già il giusto apporto di Omega 3 attraverso il pesce oppure l'olio di lino. In ogni caso non possiamo escludere che la ricerca, in futuro, possa o tornare sui propri passi con studi più robusti o magari isolare altri effetti degni di nota, anche perché uno dei problemi degli studi attualmente disponibili risiede in metodi di indagine non sufficientemente rigorosi. Concludiamo questa parte sottolineando come, eventuali allergie a parte, non ci siano particolari controindicazioni al consumo, soprattutto qui in Europa, dove l'alimento subisce un certo controllo in termini di contaminanti e pesticidi, che potrebbe essere il suo problema quando consumato nei paesi di origine. E qual è il modo migliore di consumare la chia? Alla luce del rilevante impatto calorico, in genere è meglio non esagerare, ma sono comunque un'interessante aggiunta ad altri alimenti, come frullati, cereali per la colazione, chi ha detto porridge d'avena? Barrette energetiche fatte in casa, yogurt, io lo mangiavo così, ma anche farinacida e preparare a casa, come pane e ovviamente tortillas. L'aspetto culinario più interessante dei semi di chia è che sono in grado di assorbire acqua, un sacco di acqua, tantissima acqua, andando a formare una sorta di gelatina che viene anche usata talvolta in sostituzione delle uova in cucina vegana, ma che ti permette di preparare anche il cosiddetto chia padding, una sorta di budino che richiede semplicemente di incorporare un paio di cucchiai di semi e 100 ml di latte, latte vegetale o yogurt e un po' di dolcificante se lo desideri, ma ovviamente meglio ancora, vi consiglio io, frutta fresca. In 5-10 minuti e senza bisogno di cottura si compie la magia, la chia addenserà il liquido creando automaticamente il budino, che volendo si compatterà ulteriormente in frigorifero, ovviamente in rete puoi trovare mille varianti. Un altro utilizzo estremamente interessante è il consumo in forma di germogli da preparare a caso, anche se essendo mucillaginosi non si adattano proprio a tutti i germogliatori. Grazie, grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia, nel mio piccolo rimango a disposizione qua sotto nei commenti per dubbi, domande e critiche costruttive, ma ricorda sempre che uno sconosciuto su internet non può e soprattutto non deve mai sostituire né il tuo medico curante né il tuo nutrizionista. Grazie ancora, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!